Sicuramente sono parole che fanno capire quanta delusione da parte sua ci sia nei nostri confronti per la partita di domenica. E' un momento in cui noi dobbiamo dargli una risposta nel senso che noi dobbiamo capire la sua delusione e capire che è il momento di rispondere sul campo perché noi possiamo fare solo quello. Però sicuramente è una responsabilità che noi dobbiamo sentire ma anche noi stessi ci siamo resi conto della partita di domenica. Non è che noi siamo stati insensibili a questo, ci siamo resi conto che abbiamo sbagliato a uscire dal campo perché dopo che abbiamo preso il secondo e il terzo gol abbiamo sbagliato completamente l'atteggiamento perché ci siamo un po' fatti travolgere dagli episodi della partita e non abbiamo saputo reagire. Io per primo dovevo forse dare un segnale diverso alla squadra perché anch'io mi sono fatto trascinare dentro da questa cosa e sicuramente non era il segnale che io dovevo dare ai miei compagni e quindi ci sentiamo un po' arrabbiati, incazzati ognuno con se stesso e quindi però dobbiamo anche guardare avanti, andare avanti, riprendere la settimana e preparare al meglio la partita di domenica.